Voglio farti una domanda. Se avessi la possibilità di realizzare un desiderio, un desiderio legato all'aspetto del tuo viso che vorresti valorizzare, quale sarebbe? Ho scelto di specializzarmi nel lavoro più bello del mondo e oggi, dopo 15 anni, sorrido con cuore e mente quando mi presento. Mi chiamo Veronique Viganotti, sono una make-up artist e hair stylist riconosciuta nel mondo dello spettacolo e del wedding. Lo sono diventata grazie a impegno, studio continuo e amore per il mio lavoro. Ora voglio salutarti chiedendoti, vuoi che il tuo desiderio venga asaudito? Contattami, ti aspetto!